Benvenuti nel canale Juventus Oggi. Il miglior canale di notizie della Juventus su YouTube, iscriviti al canale per non perderti nessuna novità dalla Juventus. Gilau Felix, nel mirino della Juventus. Orge Mendes, agente di Gilau Felix, è in conversazione con la dirigenza bianconera. Per un possibile calciomercato estivo. Altro fatto sarebbe, un'ipotesi interessante per l'Atletico Madrid sarebbe un prestito con diritto di riscatto, che coinvolgerebbe anche Muise Khin. Sicuramente i prossimi mesi possono essere importanti, con Orge Mendes. L'agente di Gilau Felix, pronto a dialogare sempre di più con la Juventus. Nella stagione in corso. Gilau Felix ha 4 gol e 3 assist. Il giocatore portoghese è con 23 anni. Mi piacerebbe molto conoscere la tua opinione. Gilau Felix ha la Juve, cosa ne pensi? Lascia il tuo commento.